Laudax Cervinara del presidente Gioricci è terzo in classifica, un campionato che sta rispettando le attese di una piazza ambiziosa che ha sede di grande calcio. L'ossatura della formazione di mister Giuliano è quasi la stessa della squadra dell'anno passato, che sfiorò la promozione diretta insieme di tre giocatori di spicco del club caudino c'è Marco Colarusso, centrocampista classe 93, il calciatore è uno dei perni della formazione di Giuliano, un elemento interessante alla sua seconda esperienza con la maglia di bianco azzurri. Nella mediana è uno dei giocatori dal rendimento più alto del Cervinara, prestazioni affidabili che uniscono qualità e quantità. Un centrocampista dai piedi buoni che con i suoi inserimenti riesce a spaccare le difese avversarie rendendo i suoi movimenti imprevedibili. Mezza la goliador, sono nove infatti le reti messe a segno in 24 partite disputate. Su regalato ben 13 punti alla formazione caudina. Quando mancano sei giornati al termine della stagione, il centrocampista punta a vincere con il Cervinara ed incrementare il suo bottino personale per raggiungere il miglior posizionamento possibile in vista dei playoff.